La storia tra i due ex ceffini, Francesco Monte e Giulia Salemi continua ad alimentare il gossip Nei scorsi giorni, i fan della coppia avevano notato che i loro beniamini nonostante fossero usciti dalla casa da più di una settimana hanno pubblicato pochi scatti insieme sui loro profili social La poca attività sui social ha lasciato presagire che i due fossero già in crisi La notte appena trascorsa la modella Italo-Persiana ha messo a tacere il gossip con un Instagram Stories Giulia Salemi aggiorna i suoi fan, ecco come procede la storia con Monte.La notte scorsa, Giulia Salemi ha svelato ai suoi numerosi followers come procede la storia tra lei e Francesco Monte L'ex ceffina ha pubblicato una IG Stories con una foto di Francesco Monte intento a mandarle un bacio in videochiamata La storia è stata accompagnata della di da Scania notte fiabe. Francesco e Giulia continuano ad amarsi, ma gli impegni lavorativi almeno per il momento gli ostacolano di viversi a pieno Cecilia Rodriguez non segue più Giulia Salemi su Instagram, l'Italo-Persiana replica Nelle ultime ore, Cecilia Rodriguez, ex fidanzata di Francesco Monte, ha preso una drastica decisione, quella di non seguire più Giulia Salemi su Instagram La modella Italo-Persiana a sua volta ha smesso anche lei di seguire l'Argentina Il rapporto tra Cecilia e Giulia che la scorsa estate avevano condiviso una vacanza a Cefalu è diventato piuttosto gelido Il rapporto tra Cecilia e Giulia Il rapporto tra Cecilia e Giulia Il rapporto tra Cecilia e Giulia